Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia, e aspra, e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco e più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Ciao e bentornati, welcome back to Pillole d'Italiano. Questo episodio, il numero 63, è un episodio speciale, bilingue. This episode, episode number 63, is a special one, and it will be bilingual. Perché ho recitato l'inizio della commedia di Dante? Why did I open up this episode by quoting the very beginning of Dante's Inferno? Perché quest'anno si celebra il settecentesimo anniversario della sua morte. Dante morì a Ravenna la notte del 13 settembre del 1321. This year, 2021, is the 700th following his passing. Dante died in the city of Ravenna during the night of September 13th, 1321. E l'autore della commedia viene considerato anche il padre della lingua italiana. Moreover, the Divine Comedy's author is also considered the father of the Italian language. Infatti, il vernacolare toscano utilizzato da Dante nelle sue opere costituisce la base dell'italiano moderno. As a matter of fact, the Tuscan language that Dante used in his masterpiece constitutes the very foundation of modern Italian. Nel 500, il fiorentino trecentesco di Dante Alighieri, Petrarca e Boccaccio divenne il modello linguistico più importante per i letterati italiani. In the 1500s, the language spoken in Florence two centuries prior, the language used by Dante Alighieri, Petrarca e Boccaccio, became the reference point for all Italian poets and writers. La diffusione dell'italiano letterario come lingua parlata, però, è un fenomeno relativamente moderno. The process of this literary language becoming the national spoken one, though, is relatively recent. Solo quando l'Italia venne unificata nel 1861, il Toscano fu eletto a lingua ufficiale. Only when Italy became a unified country in 1861, the Tuscan dialect was chosen to become the official language. È stato stimato che al momento dell'unificazione del paese, solo una piccolissima percentuale, tra il due e mezzo e il dieci per cento, parlasse italiano. A realistic estimate is that back then, in that moment in time, only a very small percentage of the Italian population, between 2.5 and 10 percent, actually spoke Italian. La gran parte degli italofoni era rappresentata dai Toscani e dagli abitanti delle regioni limitrofe, dove si parlavano dialetti simili al toscano. Il resto degli italofoni era rappresentato da coloro che avevano imparato la lingua in un ambiente scolastico. Il resto degli italofoni era rappresentato da coloro che avevano imparato la lingua in un ambiente scolastico. Nel 1950, quasi un secolo dopo l'unificazione d'Italia, meno del 20 per cento della popolazione italiana parlava un italiano fluente nella vita di tutti i giorni. In 1950, almost a century after the unification, less than 20 percent of the Italian population actually spoke Italian fluently on a day-to-day basis. L'analfabetismo era rampante. Nonostante la Costituzione italiana stabilita nel 1948 affermasse il diritto universale all'educazione scolastica di base. Il problema era che i bambini appartenenti alla classe operaia e contadina costituivano una risorsa economica fondamentale ed erano quindi costretti dalle loro famiglie ad abbandonare la scuola. The main issue was that the working class kids and the sons and daughters of farmers really constituted an economical resource for their families. Therefore, they were often forced to drop out of school and go to work. Infatti, molti bambini non avevano nemmeno la possibilità di terminare le elementari prima di essere mandati a lavorare. Quindi come siamo arrivati alla situazione in cui al giorno d'oggi la maggior parte della popolazione italiana parla italiano? L'evento che ha avuto il maggiore impatto sulla diffusione della lingua italiana in tutto il paese fu l'introduzione della televisione nel 1954. It might come as a surprise, but the main event who had the biggest impact in spreading the language was actually the introduction of TV in 1954. Se avete letto il libro L'amica geniale o guardato lo show televisivo, potreste aver notato come la cultura dell'epoca, di quando le protagoniste erano bambine, rispecchia questa evoluzione. If you ever read My Brilliant Friend, or watched the TV show for that matter, you might have noticed how the culture portrayed speaks to what I just told you about. Per esempio, avete notato come l'uso del dialetto è predominante mentre le protagoniste parlano italiano solo a scuola? Have you noticed, for example, how dialect is predominant while the protagonist only speak in Italian at school? Nella mia vita personale ho notato qualcosa di simile con i miei nonni. In my personal life, I noticed something similar with my grandparents. Mentre i miei nonni materni erano emigrati al nord, i miei nonni paterni sono sempre rimasti e hanno sempre vissuto nel paese in cui sono cresciuti, al sud Italia. While my maternal grandparents eventually emigrated and moved to the north, to Milan, my paternal grandparents never really left the town where they grew up. E quindi i miei nonni paterni tendevano a parlare in dialetto molto più spesso rispetto ai miei nonni materni. Therefore, my paternal grandparents used to speak in dialect way more often than my maternal grandparents did. Il loro livello di educazione era esattamente lo stesso. I miei nonni, i nonni maschi, erano andati all'elementari fino in quinta, quindi avevano studiato per cinque anni, mentre le nonne erano andate a scuola solo per due anni. In both cases the level of education was the same. My grandfathers had finished the primary school education studying for five years, while my grandmothers only studied for two. Quindi la differenza non stava nel livello di studio. La differenza poteva essere solo spiegata col fatto che una coppia di nonni aveva dovuto adattarsi a vivere, a parlare, a comunicare in un ambiente dove non si parlava lo stesso dialetto ed erano quindi stati costretti a usare l'italiano ogni giorno. So the difference wasn't really in the educational level. The difference, in my opinion, can only be explained with the fact that one set of grandparents had to move and go and live in an environment where no one was speaking their dialect, so they had to adapt and start using Italian on a day-to-day basis to be able to live and communicate. E il fatto che la lingua italiana si sia diffusa in tutto il paese solo recentemente, meno di un secolo fa, comporta che i dialetti e le parlate locali siano ancora così predominanti in Italia. And the fact that the Italian language, the official and universal Italian language, only spread throughout the country very recently, less than a century ago, means that dialects and local ways of expressing and talking are still so prevalent in Italy. Questo non significa che voi dobbiate imparare il dialetto della regione o dell'area che volete visitare. Ormai, al giorno d'oggi, tutti in Italia parlano italiano. This doesn't mean that you have to learn the dialect spoken in the region or in the area that you want to visit. Nowadays, everyone in Italy speaks Italian. Spero che abbiate imparato qualcosa oggi e che questo episodio vi sia piaciuto. I truly hope you learned something today and that you enjoyed today's episode. If so, don't forget to like it. And if you're new to the channel, subscribe so you're not gonna miss any future episode. Leave a comment in the comment section below and let me know what your level of understanding was, if you were able to follow along or if you had to watch the episode multiple times to get everything that I was saying in Italian. This episode was bilingual. I didn't try to really translate word for word every single thing that I was saying in Italian. I was kind of speaking a bit off the cuff. But let me know if you liked it, if you understood everything, if you have questions, use the comment section below. Communicate with me. Non vedo l'ora di leggere vostre commenti. I will see you in a week. Ciao, a presto!